Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, come promesso in un paio di video precedenti, oggi parlerò con voi di Joker Harley, Lucidità Criminale, volume tanto agognato per cui avevo molta hype dal Luca scorso, dove è stato presentato dalla Panini Comics, perché si sa che ormai la DC in Italia è stata presa dalla Panini Comics e quindi i loro numeri vengono pubblicati dalla Panini Comics come per la Marvel, questo numero devo dire l'ho preso e mi ha un po' deluso. Adesso vediamo perché. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che sono degli psicopatici come il Joker e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, se lo avete letto, se non lo avete letto scrivetemi qual è il vostro fumetto preferito che riguarda il Joker o Harley Quinn. Vi ricordo anche di iscrivervi agli altri miei social per rimanere aggiornati su quello che faccio in generale nei miei social. Ora, Joker Harley, Lucidità Criminale, un numero che mi è costato davvero tanto. Piccolo aneddoto, l'ho preso per sbaglio a Natale in tedesco e l'ho dovuto riportare. Sempre per sbaglio invece di renderlo nell'ufficio postale più vicino, ho scelto un DHL Point più vicino. Appena sono stato in zona gialla l'ho riportato e ho preso una multa di 143 euro. Ringrazio anche i vigili urbani, ma giustamente avevo torto, ho preso una multa, quindi questo numero oltre a costarmi 18 euro mi è costato pure 143 euro di multa perché se non lo avessi sbagliato a comprare, se non lo avessi reso non avrei preso questa multa, ma bando alle ciance. Il numero è davvero, davvero molto diverso da Harley, numero che ho recensito qualche giorno fa e forse anche alla luce del fatto che ho letto prima Harleen di questo numero, questo numero mi ha totalmente spiazzato anche in un senso negativo. Qua vediamo una ultra realtà, nel senso che una ultra verosimiglianza. La storia del Joker, la storia di Harley vengono prese e messe in un contesto iper realistico, come per esempio è successo per il Joker con Joaquin Phoenix, o magari senza andare a quel livello, per esempio anche la trilogia di Nolan è stata resa in modo iper realistico, per quanto si possa parlare in modo realistico di un giustiziere che si veste da pipistrello e picchia i criminali. Ecco qui questo concetto è stato reso allo stesso modo. Vediamo Harleen Quinzel, che è una criminologa, quindi una psicologa che comunque studia i comportamenti criminali, vediamo un'alternanza di tavole al presente in bianco e nero, alternate a i flashback che sono a colori e sono stati disegnati con una tecnica che le fa sembrare delle vere e proprie fotografie. Quindi a livello artistico, a livello di disegno il numero è un capolavoro, è così realistico da fare impressione. A livello invece di storia, devo dire, o di scelte stilistiche, devo dire che ovviamente a me non è piaciuta la scelta di fare il flashback con questa tecnica fotografica, tecnica di disegno un po' alla Alex Ross per intenderci, e di usare le tavole al presente in bianco e nero. Non siamo abituati a questo e è un attimino confusa la cosa, cioè ti può dare un po' di confusione. Un'altra cosa che non mi è piaciuto è che uno dei comprimari di Harley Quinn, ovvero Pamela Isley, Poison Ivy, Edera Velenosa, viene subito uccisa in una delle prime pagine ed pare essere una delle prime vittime del Joker, motivo per cui Harley si concentra, si inizia un pochino a ossessionare per questo criminale. Questo criminale che del Joker ha davvero poco, vediamo il passato di questo Joker, vediamo una figura che potrebbe essere il Joker, appunto, vediamo il suo passato, vediamo come è arrivato a essere così disturbato, ma così allo stesso tempo intelligente, così lucido. Ci spiega questo numero come la pazzia sia una cosa e la lucidità criminale sia un'altra. Questo Joker non è assolutamente pazzo, se fosse pazzo non riuscirebbe a commettere l'efferatezza dei suoi delitti, è oltremodo lucido, è oltremodo sano, così come il Joker classico dei fumetti si dica sia, non sia pazzo, ma sia super sane, più che sano, sano al punto quasi da rendersi conto di essere in un fumetto e che tutto sia una burla, una barzellette, quindi tanto vale fare quello che fa. Però questo Joker davvero si distoglie molto dal Joker classico perché commette degli omicidi a livello, a sfondo artistico, per così dire, perché le loro, le vittime di questo Joker ricordano delle opere artistiche di vari artisti che passano da Leonardo da Vinci agli orologi sciolti di Salvador Dalì, però appunto l'efferatezza con cui commette questi omicidi, ma allo stesso tempo l'orrore con cui commette gli omicidi, perché parliamo di un omicida, di un Joker che oltre a uccidere le sue vittime le rende delle opere d'arte, ma lavorando sui cadaveri, cosa che comunque non rappresenta tantissimo il Joker. C'è il Joker del 1989, interpretato da Jack Nicholson, che un pochino mescolava l'idea di omicidio all'idea di arte. Vediamo che la sua allora fiamma, quando non c'era ancora Harley Quinn nell'universo DC Comics, c'era Alicia. Vediamo che Alicia stessa viene sfigurata dal Joker, perché sì, perché al Joker gli va di fare così, il Joker unisce l'omicidio all'arte, però qui raggiungiamo un livello tale di macabro che non si sposa nemmeno con il Joker. Cioè il Joker è pazzo, cioè è fuori di testa, fa delle cose perché sono divertenti, cioè lui uccide perché è divertente e lo fa in modo artistico, sì, ma arrivare a smembrare dei cadaveri per renderli delle opere d'arte è davvero persino, oltre persino per lui. Una cosa che forse davvero io non ho uno stomachino da questo punto di vista, ve l'ho già detto anche quando parlo di Dylan Dogg a me lo splatter piace nei fumetti, ma per esempio non piace vedere dei film splatter, questo fumetto essendo così iper realistico, vedere un livello tale di, come si dice, adulterazione dei corpi delle vittime mi ha disturbato, mi ha disturbato in modo pesante al punto che non penso prenderò il prossimo numero, ma non vi sto consigliando di non farlo, ovviamente, perché ognuno ha i propri gusti, anzi vorrei proprio che siate voi, se avete gusti diversi dai miei, a scrivere qui sotto se vi è piaciuto e perché consigliereste di prendere questo numero ad altri della community di no ma mi ammazzo, perché no, perché non mica bisogna pensarlo assolutamente come me, il numero ve l'ho detto, è disegnato egregiamente, è disegnato con i controcosiddetti, con i controcazzi, la storia secondo me va davvero tanto fuori da quello che sono i personaggi originali, tant'è che poteva essere benissimo la storia di qualcun altro, un po' come è successo con il Joker, con Hawking Phoenix poteva essere benissimo un altro personaggio, ma diciamo che sfruttando la popolarità dei nomi da cui prendono ispirazioni, quindi Joker e Harley Quinn, sicuramente si vendono più copie che non se fosse stato una storia qualunque, quindi questa cosa anche non mi è piaciuta molto, però vabbè tant'è che siamo anche noi un po' schiavi delle nostre passioni, del fatto che amiamo i supereroi o nel caso di Batman amiamo anche i nemici del supereroe in questione, quindi siamo stati attratti da questo fumetto che però davvero dei personaggi originali prende davvero poco. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate voi, spero in questo caso che la pensiate diversamente da me, che il fumetto vi sia piaciuto al punto tale da prendere gli altri due numeri, magari scrivetemi nei commenti gli altri due numeri se valgono la pena, se vale la pena spendere anche per gli altri due numeri, se leggendo gli altri due numeri potrei cambiare idea, oppure se anche voi la pensate come me, va bene ci mancherebbe, anzi mi piace che ci sia ovviamente persone all'interno della community che la pensano come me, però tant'è che vi spingerò sempre a comprare dei fumetti, a informarvi, a leggere cose nuove, anche se a me non piacciono, ci mancherebbe. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, l'appuntamento verso lo Snyder Cut della Justice League è sempre più vicino, io come sempre con l'inchin e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.